Una splendida giornata di intensità culturale e sociale è stata vissuta a San Vincenzo la Costa con la cerimonia inaugurale della Biblioteca Pubblica, costituita dalla locale Proloco, grazie all'accordo di collaborazione stipulato con la Biblioteca Nazionale di Cosenza e alla sensibilità della BCC Mediocrati. Presidente Paldino, si sente orgoglioso per questa scelta di sostegno alla Proloco nella creazione di questo centro culturale? Assolutamente sì, devo farvi i complimenti perché la Proloco ha lavorato veramente alla grande, molto bene, ha fatto una biblioteca legata alla rete nazionale delle biblioteche, quindi siamo orgogliosi davvero di aver contribuito a rivitalizzare un borgo antico come San Vincenzo la Costa e abbiamo restituito alla comunità un qualcosa che era della comunità, perché le banche locali, come era quella di San Vincenzo, lavoravano per la comunità, nella comunità e quindi è giusto che la banca che si è fatto carico di queste attività pregresse, che si è fatto carico di queste dia e restituisca al proprio territorio questa sede che diventa prestigiosa perché voi state facendo un lavoro egregio e quindi la state rivitalizzando e rivalutando. Questa biblioteca per tutto il territorio di San Vincenzo la Costa rappresenta un fulcro destinato sempre ad aumentare, a dare visibilità anche in campo nazionale, in quanto la biblioteca di San Vincenzo la Costa è stata iscritta nel registro ICCU, quindi siamo a tutti gli effetti una biblioteca riconosciuta. Facciamo parte del servizio SBN e quindi gli studenti possono tramite la piattaforma online fare le ricerche dei testi librari. È un'avventura nata dalla passione, la passione per i libri, la passione per la cultura, ma ogni passione diventa realtà solo e soltanto se c'è tanto lavoro e di lavoro ce n'è voluto molto. Ci sono volute tante sinergie ma siamo arrivati a questo momento e iniziamo questo cammino che speriamo ci porti lontano.